1, 2, 3, pronti via. Anche quest'anno riferimenti con la sua gerbera gialla a un programma ricco di avvenimenti, ricco di personaggi istituzionali, fra i quali ricordiamolo il procuratore Piero Grasso e il procuratore Giuseppe Pignatone, ma soprattutto ricco di contenuti, contenuti che molto spesso riferimenti con i suoi eventi trasmette, o comunque cerca di trasmettere ai più giovani. Sì, chiaramente la gerbera quest'anno compie 19 anni, è nata a Reggio Calabria, in questa Calabria esattamente 19 anni fa, come fiore che abbiamo consegnato un simbolo di memoria ma anche di speranza a tanti ragazzi. Lungo questi anni, in tutti questi anni, la gerbera ha incontrato migliaia, migliaia e migliaia di ragazzi. Dobbiamo dire che siamo davvero contenti, perché quando abbiamo iniziato si diceva che la mafia non esisteva. Abbiamo iniziato in una Calabria, esattamente a Reggio Calabria, che era una città senza voce, senza diritti. Oggi invece vediamo che questi ragazzi di mafia ne discutono, ne vogliono parlare, sono interessati e soprattutto reagiscono. Ecco, questa per noi è la soddisfazione più grande. La gerbera quest'anno ha avuto un riconoscimento dal Presidente della Repubblica per il suo 19esimo compleanno. Noi di questo siamo fieri, siamo contenti, perché vediamo che le istituzioni riconoscono il lavoro. Lungo lavoro, anche pesante, direi, che si porta avanti giorno per giorno. Però, ripeto, la nostra soddisfazione più grande è quella di vedere la gerbera nei cuori, nelle menti di tanti ragazzi calabressi. Ecco, come regalo di buon compleanno del 19esimo anniversario, lo Stato ha pensato bene di donare dei beni confiscati alla sua associazione. Lei ha già spiegato in conferenza stampa qual è l'idea di come sfruttare questi beni, però ribadiamolo. Perché la cosca Mancuso, scusi che lo interrompo, è una delle cosche d'Indrangheta tra le più potenti al mondo. Sì, sì, appunto. Dunque, riferimenti. Una delle giornate che interesserà appunto nel cammino della gerbera 2011 è la cittadina di Limbadi, terra della cosca Mancuso, una delle cosche più agguerrite dell'Indrangheta calabrese. A Limbadi, il 2 maggio, ci sarà il procuratore Grasso, ma ci saranno tutte le istituzioni, la provincia di Vibo, i ragazzi, per sancire la partenza dei lavori dell'Università dell'Antimafia. L'Università dell'Antimafia è... Che, non vorrei sbagliare, è la prima in Italia. Sì, sì, è la prima. Sarà l'Università Nazionale dell'Antimafia e sorgerà per nostro progetto, sul nostro progetto sposato dal Viminale, dal Ministero degli Interni, sorgerà nelle case dei Mancuso. Sono due fabbricate e due ville che sono stati assegnati al nostro coordinamento. confiscate, chiaramente, alla famiglia Mancuso e a noi assegnate. Noi abbiamo progettato un'Università sul modello dei campus americani, per cui nei fabbricati ci saranno dei residenze a disposizione dei ragazzi e nelle ville sono state progettate le aule vere e proprie per le lezioni. In questo noi avremo accanto, in questo lavoro di formazione, sia università locali, nazionali, ma anche università americane, col coordinamento di Antonio Nicaso. Bene, ringraziamo Adriana Musella. Noi ribadiamo questo che, più che uno slogan, è davvero un altro bel contenuto. Liberi dall'andrangheta, ogni bene confiscato e restituito alla società aiuta la Calabria a crescere. E noi, anche con i nostri articoli, con la nostra informazione, in effetti vogliamo contribuire da bravi cittadini affinché questo si realizzi. Grazie.